L'unione fa la forza anche quando si tratta di affrontare una malattia. Allo Spazio Rai una folla di fan ha accolto lo scrittore spagnolo Albert Espinosa, autore del libro che ha ispirato l'affortunata serie tv Braccialetti Rossi. Con lui sono intervenuti il regista e il produttore della fiction e Brando Pacitto, un attore del cast. L'autore, celebre in Italia come in Spagna, ha presentato il suo libro pubblicato a gennaio e si è complimentato con i realizzatori per aver fatto conoscere il suo lavoro e la sua storia al grande pubblico. Tra i fan dei Braccialetti Rossi tantissimi bambini e ragazzi molto attivi sui social network. Per questo i produttori hanno annunciato di non voler abbandonare i propri follower e in attesa dei nuovi episodi hanno lanciato il diario dei Braccialetti Rossi, uno spazio in cui verranno inseriti testi, canzoni e il diario personale dei personaggi. Il segreto della fiction, spiegano gli autori, è il modo in cui racconta la malattia, mettendo al centro la fatica, il dolore, ma anche la speranza e l'energia di un gruppo di ragazzi.